Benvenuto alla stagione professionistica a Rapala Vuoi giocare prima il tutorial? Sì figa, voglio capire come pescare un pesce Ah lo vedi sotto, in basso a destra, lo vedi lo scanner di pesci? Si chiama Eco Scandaglio, sono un pescatore Eccolo qui, guarda che spettacolo Il cazzo del porco di Dio che me ne frega Lancia mirando al punto caldo Quando il pesce si trova nella zona di pesce Inizia a roltre, inizia a roltre, inizia a roltre Inizialo a tirare su Ora ci sono molti più pesci nel lago E io, da buona troia, mi ci lancio amico Soprattutto perché sto veramente facendo questa domanda? Cioè frate, io in tre giochi di pesca È la prima volta che riesco a catturare un pesce Fisca i bluegill per chi ha gialla più pesanti In dieci minuti Regà, il record era tre chili Oh no, divento primo in classifica mondiale di Rapala No zi, e ne va a finire, finisce il tempo No zi, so triggerato Però regà, Milan Forever sotto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti